I FONDRI non è sansecondi mostra i punteggi anche il punteggi minchia te l'ho detto non si sa non si sa non si sa bello ma quello è un bel regalo ma quello è un bel regalo anello non si sa no 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 è troppo eh è giusto perciò è giusto perciò è giusto perciò dopo tutto dopo tutto sono noi ragazzi salutate la capolista salutate la capolista grazie a tutti